Lenzi, Napoli ha un sindaco! Non mi sbaglio! Eh, perchè chi lo stanno andando di ci confondere? Dovrebbe essere quella lì che... Questa cosa è bellissima! Se che cosa parla è, assai in una cosa? Cosa è che ci vorranno? Non si può fare... Non mi sento... Non mi sento... Non si può fare... E ci vuole... Non si può fare... Non so, non si può fare... Ma io, non mi sento... Si, non mi sento... Non mi sento... Ma io, non mi sento, ma io... Se, non mi sento... E' che l'accento se ne è dai svisi, sono pure. Sai quante ore ci ha contattato con il pappello? Questo è un passapolo. E lo potete però agli altaventi tutti i pappello di sapore. Non è un passapolo, ma io si chiede, non ho avuto un passapolo con leобразi. Ciao, soni l'anima, sono anche un passapolo, ma io adassare 100 euro a partita. E poi, hanno servito più da 60 euro in che era sluotato e ridbere 20 euro. E poi sono è lavorato che di messi una cultura, a filing un passapolo. è tanto, fino a quando evitiamo a me, solo nella decima dell'auta è serata, poi sono da fare un concorso a me e qui, vengono a scendermi, non ci vogliono, ma rimaniamo a diciamo che non ci vogliono, ma rimaniamo a me, come stai, non ci vogliono.